Quest'anno un festival è giunto alla quarta edizione, ci sono delle novità? Sì, il Festival Republic quest'anno sarà ad Insegiore, ovvero a Fosso Segiore, che è una collaborazione tra il Bagnacciuga, i Bagnelsa e quest'anno all'interno ci siamo inseriti noi di Republic in collaborazione con l'Associazione Periferica di Pesaro. Sarà il 22 maggio, quindi domenica, e in una sola giornata. Quindi si parte dal pomeriggio, dalle 16 del pomeriggio, fino a serata, fino a mezzanotte circa. Quale sarà il programma? Non mancheranno i concerti? Sì, ovviamente sì, i concerti inizieranno dalle 17, nello specifico, e per la prima volta, come novità del Festival Republic, avremo dei gruppi internazionali. Gruppi internazionali come Headliner, Remy Paws dalla Scozia, Terry Maltz dalla California, mentre invece, per tornare alla scena italiana, avremo gli Albedo, milanesi, vincitori del premio della critica al Festival Buscaglione di Torino, e il Sunday Morning di Cesena, in apertura dal norte di Pesaro. Ci sono anche delle iniziative collaterali? Sì, come tutti i Festival Republic, portiamo dei contenuti che fan parte della mentalità Republic, dell'associazione, quindi ci sarà il mercatino del riuso e del baratto, ci saranno makers, espositori, ci sarà un Alleycat che, con partenza da Pesaro e Fano, andrà a confluire, quindi una corsa ciclistica urbana poco seria, a tappe nei luoghi da ripensare, quindi le iniziative sono tante. Avremo anche la ludoteca, dove si possono provare, giochi in scatola, nuovi e vecchi.